Buongiorno papagheni e benvenuti in questo nuovo video. Sono in un'altra postazione perché di là in cucina c'è la mia mamma che sta guardando la televisione quindi non mi ci volevo piazzare davanti e io che parlo, cioè giustamente lei si sta guardando la televisione quindi ok, sono qui in camera da letto. Non fate finito niente, devo farlo ancora, ok. Però volevo prima registrarvi questo video visto che è stato richiesto, io ho i capelli sciolti, ieri mi sono ritagliata al ciuffo, vabbè ok. Mi sono data una piccola truccatina, giusto un po' di mascara, il burro di cacao eh, perché non volevo spaventarvi con la mia faccia da fantasma, salute mamma. Mi sono messa un po' di fondotinta ma tra un po' me lo vado a togliere perché sono tanto abituata a non truccarmi più che mi sento sporca, cioè, quindi mi sa che ormai io il make up niente e volevo fare anche un video in cui mi truccavo stile araba, però, araba vabbè, quel trucco con l'eyeliner, un bellissimo trucco che ho trovato, però appunto perché mi dà fastidio non so truccarmi in questo momento, quindi ho detto no. Poi lo faccio con calma anche perché prima voglio provare a fare la tecnica, voglio vedere se ci riesco, anche magari registro il video e poi mi viene un occhio così, dico no, cioè che mi trucco male. Quindi sì, prima voglio provarci, poi semmai faccio il video, ok? Questo video sarà le sette cose su di me perché è stato richiesto come vi stavo dicendo, ma io ovviamente riesco sempre a perdermi in chiacchiere e... E niente, vi racconto tutto, tranne quello che vi devo dire. Quindi sì, mi sono scritta qui le parole chiave, diciamo, delle sette cose che vi voglio raccontare su di me, personali, che alcuni sanno, altri no, infatti voi che siete i miei fani, i miei cari papagheni, volevo raccontarle. Allora, la prima è che la mia più grande fobia sono i palloncini. L'ho cercata perché dicevo impossibile che c'è sta paura, ma perché? E invece esiste proprio, si chiama globofobia, è praticamente la fobia dei palloncini, delle cose tonde, quindi oddio. Anche una volta che stavo pulendo, tipo, c'era una lampada a forma di, non so, era tonda, grossa, no? E io mi sono paventata e dicevo, no, no, mamma, non ce la faccio. Cioè, è una cosa assurda. Quindi, se io vedo un palloncino scappo, che sia gonfio, sgonfio, rotto, mi spavento veramente, cioè, scoppia a piangere, vengono crisi di panico, quindi è orribile, raga, veramente. E rientra nelle dieci fobie più rare al mondo, figuriamoci. Ma perché? La seconda è che il mio colore preferito in assoluto è il giallo, mi piace tantissimo, mi ricorda il sole, mi ricorda la luce, non lo so, è un colore che mi rappresenta. La terza è che credo di avere un'anima, cioè, un'anima, l'anima internazionale, perché io amo il mondo, amo i paesi, le nazioni, nel senso, sono italiana, ok? Però io ho una passione per la Turchia, per l'Albania, Romania, le lingue, mi piace imparare le lingue, le altre lingue, ce la posso fare, magari prima se ripasso l'italiano, raga, veramente. Però sì, mi piacciono queste cose, le culture, non lo so, tipo ho una passione proprio per i capelli e gli occhi degli arabi, delle arabe ragazze, i capelli neri, lunghi, bellissimi. Cioè io, non lo so, l'altra sera ho visto un film indiano, ero così, quindi ok. Non lo so, è proprio una fissa, proprio per l'internazionalità, proprio... Internazionalità? Ok, ho chiesto a mia madre, crede di sì anche lei, quindi va bene, se faccio un agaffo, se facciamo un agaffo in due, per favore correggetemi, perché sì, perché sì, ok. Quindi sì, io ho un'anima internazionale, i balli, non lo so, ho visto anche dei video in cui ci sono dei balli tradizionali turchi, oh mio Dio, quelli rumeni. Vorrei girare il mondo, davvero, Papageni, oh mio Dio. Infatti credo di avere un'anima internazionale per quello, perché anche la musica, io ultimamente mi sono scaricata tantissime canzoni marocchine, indiane, cioè, ce n'è una in particolare che mi fa impazzire, che mi fa proprio venire voglia di ballare, quindi sì. Poi, continuando, la quarta cosa è che io la lingua spagnola l'ho imparata sin da piccola, non sono né ecuadoriana né colombiana, nada de nada, ok, perché in tanti mi dicono sempre scusa, posso chiederti una cosa? Sì, sì, dimmi, ma tu sei italiana? Sì, sono italiana, non sembra, però sì, sono italiana. Che io parli altre lingue è un discorso a parte, perché appunto si collega al fatto che io sono internazionale. Quindi sì, diciamo che lo spagnolo lo parlo quasi come madrelingua, quasi, eh, non come madrelingua, perché lo so bene, nel senso a parlarlo mi vergogno un po', però se sono un po' disinvolta o comunque mi viene, lo parlo. Scriverlo lo scrivo, capirlo lo capisco perfettamente, anche i loro modi che hanno, perché comunque sia hanno comunque un gergo loro. Ad esempio in Ecuador tanti invece di dire trabajo dicono cameo, che vuol dire lavorare, quindi diciamo i loro termini, il loro modo di parlare io lo capisco. Questo ovviamente l'ho imparato negli anni, però l'ho imparata da sola, cioè senza studiarla, senza mettermi a dire vabbè, non l'ho mai fatta a scuola, perché al tempo che io andavo alle medie, o comunque le superiori, le lingue erano francese e inglese. Giusto quando io poi ho finito le medie, hanno voluto inserire come scelta o il francese o lo spagnolo. Ovviamente io sono stronza, e vabbè, comunque no, non mi pento, perché comunque anche il francese mi piace, non lo so, anche in questo dico la mia anima essendo internazionale, perché ho una pronuncia buona, diciamo, anche nelle altre lingue, non solo spagnolo, anche in inglese, o comunque ho provato a dire qualcosa in marocchino, o se no albanese, rumeno, cioè se voglio imparo, quindi sì, papageni, la lingua spagnola non è perché sono sudamericana, non perché l'ho studiata a scuola, ma perché l'ho imparata da sola, così, punto, e basta. La quinta cosa è che so imitare le voci o le cantilene, tipo a scuola, una volta mi è successo che non stavamo scherzando o parlando, e un mio compito di classe mi diceva no dai dai rifallo, ti prego, dai rifallo, perché so imitare la voce di Belen Rodriguez, quando dicevo, mio Dio, ecco te la spalina, quindi diciamo che sì, che sono, cioè, non dico che sono ottima, perfetta, però se voglio so imitare bene le voci, adoro Belen Rodriguez, soprattutto cecciu. Poi, la sesta cosa, è che il mio fiore preferito è il girasole, non sono le rose, non sono altri fiori, e il girasole mi fa impazzire. Se no c'è un fiore bianco che mi piace tantissimo, per chi ha visto Peter Pan, il film, col ragazzino biondo, molto carino, il fiore che lui prende, come mi dice, che dentro c'era la medicina, suppostamente, la medicina, quel fiore lì, non mi ricordo mai come si chiama, però è un fiore bianco bellissimo, che io adoro. Quindi, vabbè, il mio fiore primo preferito, ovviamente, è il girasole, e in secondo posto quelli che vi stavo spiegando. Se no mi piacciono anche tantissimo le peonie, però no, basta, solo una cosa, quindi il girasole. La settima e ultima cosa, voi mi vedete le unghie così, vero, belle e lunghe, col gel, ora vabbè, c'è tanta ricrescita, perché ovviamente il periodo non è raccomandato, e me ne frego, me ne sono io, limata, e come saranno, saranno, ovviamente me la giusto io. Però, sì, io da piccola me le mangiavo, fino all'età dei 16 anni, che poi ho iniziato a lavorare, fare uno stage in un ufficio, quindi ho iniziato a vergognarmi, da impazzire, io dicevo, no, mica brutte queste unghie, fanno schifo, si vedono male, mi facevano male anche, quindi ho detto, no, basta, basta, infatti da lì poi, ho detto no, da quanto mi vergogno, me le rifaccio, cioè me le rifaccio, me le faccio crescere assolutamente, infatti poi, me le sono fatte crescere, e poi ho iniziato a farmele col gel, appunto, sia perché almeno sono più, più guardabili, come si può dire, più, ok, più curate, sono più tenute bene, quindi sono vista meglio, ecco, anche per il fatto che non vorrei mai, che in un momento di nervi, o comunque sono un po' stressata, vado lì, mangio le unghie, dico no, quindi sì, papagheine, mi piacciono troppo le unghie lunghe, cioè, ora vabbè, le ho accorciate tanto, erano lunghissime, veramente lunghissime, questa qua, poverina, è stata la prima a spezzarsi, però vabbè, sì, mi piacciono tantissimo le unghie, mi piace curarle, poi sono una che si cura molto, in tutto e per tutto, quindi figuriamoci le unghie, che è la prima cosa che magari uno guarda nelle persone, mi piace, sì, vedermi bene, diciamo, mi piace curarmi, punto. Quindi sì, papagheni, basta parlare, sono dieci minuti che vi sto facendo un cervello grosso così, una testa grossa così, ok, sto perdendo, basta. direi che vi ringrazio, spero che queste sette cose vi piacciono, non lo so, che dite oh mio Dio, non lo so. Fatemi sapere anche voi quali sono le vostre fobie, il vostro colore preferito, diciamo, fatemi sapere anche voi sette cose su di voi, ok? Ciao papagheni, scusate per le gaffe. Ciao papagheni,